Siamo andati a finire in un mondo in cui una ragazza non può nemmeno uscire di casa vestita un po' scollata oppure con la miniconna perché deve avere paura di essere stuprata. Che cosa è successo a Palermo? È successo che una ragazza di 19 anni è stata stuprata da 7 ragazzi che erano alcuni maggiorenni e alcuni minorenni tra i 17 e i 22 anni e l'hanno violentata a turno. Dopo la violenza è successo che si viene a scoprire che i ragazzi hanno fatto un video che si sono mandati tra loro su alcuni gruppi telegram e whatsapp dicendo poi frasi come la carne è carne oppure l'ha voluto lei e lei che voleva scopare.